con stefano celebrando 20 anni di questi raduni sempre rosolina si lo facciamo a rosolina perché il nostro paese insomma siamo qua vicino con la sede siamo a bottrighe con la sede qui di adria e poi insomma è molto bello venire qua con le moto d'estate far vedere i bolidi che si muovono naturalmente tutti i costumizzati perché abbiamo visto moto importanti solo ali davison o anche altre moto per il nostro gruppo solo ali davison per tutti è aperto a tutti il raduno quindi sono tutte le moto basta che siano moto l'anno scorso tantissimi anche da tutte le parti d'europa quest'anno quanti siete ma guarda siamo discreto gruppo non diciamo il numero ma ci sono gruppi comunque che arrivano da tutta l'europa perché li abbiamo da maddenburg da berlino da stade da brema da estland quindi la maggior parte sono gruppi nostri tedeschi perché quest'anno facciamo i vent'anni del club del chapter di rovigo e quindi è una data importante per noi e naturalmente poi voi contraccambiate tu che ragione hai fatto certo che sì poi quando viceversa quando loro fanno il loro ventesimo trentesimo i loro parti andiamo anche noi a trovarli è la nostra vita girare in moto io ho visto che tutti avete il vostro giubbino regolamentare le scritte regolamentari che filosofia di vita è il born to be wild è una filosofia di vita molto semplice si ispira chiaramente è un gruppo vecchio diciamo che ha 45 anni d'età è nato in europa è a berlino la sede principale poi si è sviluppata in tutta europa ok è un gruppo mc un per cento ok e quindi sta nel mondo dei biker dove c'è diciamo le parole fra noi sono rispetto lealtà e fratellanza e lo stare insieme fra amici avere la volontà di viaggiare questo è il nostro crisma dietro questa facciata importante anche di trasgressivo che lavoro fai tu posso chiedertelo io sono un agente di commercio avendo automazione industriale tanti professionisti che poi dopo ritornano giovani e hanno ancora hanno ancora hanno in testa quei valori fondamentali che fanno un po la vita il rispetto fra le persone la lealtà fra le persone penso che sia la fratellanza noi non c'è bianco nero rosso giallo via a noi sono tutti fratelli quelli che hanno certe idee ti ringrazio complimenti la moto rende giovani la barba un po meno tu non sai quanti anni ho io guarda io ne ho tanti anch'io quindi proprio non posso che neanche chiedertelo dai dimmelo dai io sono 60 e quindi Grazie a tutti.